Siamo con Don Luca Niccheri, prete fiorentino, missionario fideidonum a Salvador Bahia in Brasile in questi giorni a Firenze, ma pronto a ripartire per quella che ormai è la tua parrocchia. Da quanti anni sei lì? Circa sei anni, saranno sei anni a novembre. Quindi un'esperienza missionaria ormai consolidata. In quest'ottobre, mese tradizionalmente dedicato alle missioni, vogliamo parlare proprio di questa tua presenza che è, come ci ha insegnato Papa Francesco ormai col suo linguaggio, è una presenza di chiesa in quelle che lui chiama le periferie del mondo. Decisamente, è un'esperienza molto ricca perché sono realtà da cui si impara, io ho imparato molto, da tanti punti di vista in questa situazione. In che tipo di ambiente svolgi la tua missione? Io sono nella zona dove ci sono state per molti anni le palafitte. La diocese di Firenze era presente in un'altra zona della periferia urbana, il nostro signore Guadalupe, e lo è stata lì per quasi 40 anni. Al momento in cui ci siamo accorti che questa presenza rischiava di creare dipendenza, invece che era sviluppare, abbiamo chiesto al Vescovo di poterci spostare. Il Vescovo ha accolto questa richiesta e ci siamo spostati in questa nuova realtà, che è questa degli Alagados, una storia molto forte di persone che sono arrivate da fuori senza nulla, vivendo sulle palafitte, una storia di sofferenza, una storia di lotta, una storia di coraggio, una bella storia da condividere. Ecco, in questa storia, in questa presenza, si dicevi, il tuo è un quartiere in cui a volte anche i tassisti si rifiutano di entrare. La presenza della Chiesa cosa rappresenta tra questa gente? Rappresenta appunto una presenza, quello che è importante. La grande tragedia di queste zone è il sentirsi dimenticati, è il sentirsi abbandonati da tutti, il maturare addirittura dentro di sé l'idea che non si vale niente perché comunque a nessuno interessiamo e quindi forse ce lo meritiamo proprio. Una presenza in un quartiere dove si sta perché non si ha un posto meglio dove andare. Una presenza in questo quartiere, una presenza invece scelta, una presenza voluta, è qualcosa di estremamente apprezzato, è qualcosa che dà coraggio, che da fiducia a se stessi, è una presenza molto importante. Quindi l'importante già è esserci, essere lì, essere con loro. La presenza è il... Poi di lì si parte con il resto, ma è partire dalla presenza. La vita poi della parrocchia si svolge in maniera, per così dire, ordinaria con le attività pastorali. Sì, sì, la parrocchia è una parrocchia normale, tra virgolette, di una periferia di Salvador, con le pastorali, la catechesi, l'apostolato della preghiera, gli anziani, la famiglie, le messe. Ci dicevi delle difficoltà che vivono queste persone. Noi in questi giorni in Italia piangiamo per la tragedia di Lampedusa, per i tanti morti del mare. Come si vede questo dramma, il dramma dell'immigrazione, il dramma delle differenze tra ricchezza e povertà, tra nord e sud del mondo, da quel punto di vista? Io lo vedo come la conseguenza di un enorme disinteresse. Cioè in realtà ci si accorge dei drammi delle persone o quando ce li ritroviamo tra i piedi perché i nostri centri d'accoglienza scoppiano o quando succedono queste tragedie. Ma interesse in quello che c'è dietro, in quello che è la situazione di vita, perché, sembra quasi si divertono a venire a riscare la vita attraversando i Mediterranei o perché non c'è nulla di meglio da fare, le tragedie che spingono lì. Finché non ci si decide a voler aprire gli occhi su questo e a farcene carico, farcene provocare, queste saranno sempre le conseguenze di questa disattenzione che ci si porta dietro. Papa Francesco parla spesso di questa globalizzazione dell'indifferenza, come lui l'ha chiamata. Papa Francesco che è stato a Lampedusa in una delle sue prime uscite, diciamo così, e che è stato anche in Brasile con la giornata mondiale della gioventù, andando a visitare fra l'altro una delle favelas più poveri. Che tracce ha lasciato questo passaggio del Papa? Questa figura del Papa sta entusiasmando le persone dei quartieri popolari, delle favelas, perché lo sentono come una persona vicina, una persona attenta, una persona che fa di tutto per accorciare le distanze con questa realtà, cosa che invece normalmente altre persone della sfera di quelli che contano tendono invece a crearle queste distanze. Per cui questa presenza lì è stata, e questa presenza senza barriere, lui si è fatto intervistare all'Are del Globo senza nessun tipo di filtro, ha avuto incontri, si fermava per scendere, toccare, entrare nelle case eccetera. Questa presenza è stata una presenza sicuramente entusiasmante, lo è stata per i nostri ragazzi che hanno vissuto questo momento, ma lo è stata anche per la gente lì. Insieme al Papa in Brasile hai ricevuto anche la visita dell'Arcivescovo di Firenze, il Cardinale Giuseppe Betori, perché abbiamo detto all'inizio prete fideidonum, spieghiamo un attimo che questo significa una presenza missionaria che è strettamente legata alla diocesi di Firenze, alla chiesa fiorentina, quindi non sei un prete isolato, ma rappresenti un'intera chiesa. Che tipo di legami ancora continuano con la chiesa fiorentina? Io sono un prete della chiesa fiorentina che ci tiene a essere prete della chiesa fiorentina, che fa di tutto per essere qui tutti gli anni, per non perdere questo contatto non solo ideale, ma concreto con le persone, con i luoghi, con le realtà. Tra l'altro ci sono tante parrocchie ancora che aiutano, sostengono, anche tante associazioni come Agatha Smeralda, tante presenze che in qualche modo aiutano il tuo lavoro e sostengono opere di carità, opere di solidarietà, ma non solo. Decisamente, c'è tutta un'attenzione e probabilmente se mi sforzassi di più a raccontare e a far presente le situazioni, probabilmente potrebbe anche aumentare questa attenzione. Il rapporto con Agatha Smeralda è un rapporto molto stretto, facciamo là un progetto fortemente legato a Agatha Smeralda, un progetto che chiamiamo Beja Flor, in cui accogliamo i bambini di due anni, loro fanno quattro anni di asilo interno a tempo pieno e dopo continuano con il doposcuola e futuramente con altre attività, man mano che crescono vogliamo continuare a seguirli. Questo è un progetto che nasce in strettissima relazione con Agatha Smeralda. Un'altra cosa che è nata ora, insomma, è diventare là il vicepresidente delle attività di Agatha Smeralda a Salvador, quindi seguire tutta l'equip che accompagna e dà qualità ai progetti dove sono accolti i bambini che sono adottati a distanza da Agatha Smeralda. Lavoro splendido che questa equipe sta facendo e di cui sono contento di poter essere ancora più vicino e poterlo accompagnare da vicino, insomma. Tutto questo fa parte di una lunga storia perché tu dicevi sei da sei anni in Brasile ma la Chiesa Fiorentina è lì da quasi 50 anni. Tra due anni saranno 50 anni, cominciamo a prepararci alla ricorrenza. Tu Don Renzo Rossi il capostipite diciamo di questo percorso e lì è cominciato anche uno stile appunto di presenza che unisce l'impegno nell'evangelizzazione, la promozione umana, l'aiuto per i bambini, quindi tutti gli aspetti per così dire della missione. Senza dimenticare l'attenzione ai diritti umani, Renzo era quello che visitava i prigionieri politi nelle carceri per cui c'è questa triade che è importante custodire e riproporre. Grazie Don Luca e buon rientro in Brasile e auguri per il tuo lavoro e per la tua missione. Grazie e buon lavoro anche a voi.